Consegno agli umani le armi per distruggere il Kriptoniano e le usano per rapinare una banca. Chi di voi saprà trionfare dove gli umani hanno fallito? Di sicuro il Kriptoniano non è all'altezza dei suoi accoliti più devoti. Di Saad, Kanto e il suo stesso barbaro figlio Kalibak. Sono già riuscito a localizzare il Kriptoniano nell'edificio che gli esseri umani chiamano il Daily Planet. Mi permetta di mandare lì una squadra di parademoni per prendere la scocciatura col mantello. Molto bene, Di Saad. Voglio che il Kriptoniano venga qui. Me ne occuperò personalmente. Altrimenti sarò costretto ad occuparmi di te. Sono Clark. Ho finito le mie analisi su quell'arma aliena. Viene di sicuro da Apokolips. Arrivo subito. Non hai visto che mi sto cambiando, Kent? Oh, scusami, Sid. Ne avrai ancora per molto? Armare bomba di Kriptonite! L'abbiamo preso. Signor Kent! Signor Kent! Sid è stato rapito dagli scagnozzi di Darkseid. Sembra che Superman debba andare ad Apokolips a salvarlo. Già, credo di sì. Di Saad, ti avevo detto di portarmi il Kriptoniano. Questo qui non è l'uomo d'acciaio? Uomo d'acciaio? Questo non è nemmeno l'uomo di carta stagnola. Aspetta un attimo, Monterashmore. Superman è mio amico. Deve essere molto arrabbiato per il mio rapimento. Allora tu sei al fianco di Kaler di Krypton. Se è così che chiami Superman, allora sì. Scusa, è difficile capirti. Per caso hai del muco in golo o qualche altra cosa? Tu osi prendere in giro il dio di Apokolips? Dico solo che la squadra dei brutti mostri laggiù potrebbe eseguire meglio i tuoi ordini se fossero in grado di capirti! Mia madre dice sono molto bello. Basta! Se questo poveretto serve ad attirare il Kriptoniano da noi, allora lasciatelo vivere. Affinché possa vedere il suo amico cadere in trappola. Secondo i nostri scanner, il BoomTube si è originato dalla sala del trono di Darkseid. Entrare sarà facile. Portarlo fuori sarà complicato. Questo Sid Sharp è uno dei tuoi amici? Lui è... qualcuno a cui serve il mio aiuto. Sid! Sid Sharp! Finalmente! Superman! Attento! È venuto a prenderlo. Allora questo è un altro Superman? Gesù la lunga è un altro sunshine! Grazie a tutti.